E' il tesoriere della società, Antonio Frucconeri. E' ora il momento del numero due della società, il vicepresidente Pietro Saga. Ed ora è giunto il momento dell'entrata in sala della persona più eccellente del consiglio di amministrazione. Quindi dolci se in fondo dopo il consigliere di amministrazione entra in sala il rappresentante legale della società, il presidente Salvatore Marino. E' in questo momento, massima concentrazione, dobbiamo ascoltare gli inni nazionali. Per primo il paese che ci ospita l'inno americano e dopo l'inno italiano. Sarà esibito dalla grande orchestra Seven and Four Seveni, a cui facciamo un grande applauso per la musica che ci offrirà la sera. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.